Ascensore, mezzi GEAF e Cotral, una triade che potrebbe rinnovare il modo di muoversi a e da Frosinone, contribuendo anche a migliorare nettamente l'area che si respira in città. Dal comune di Frosinone c'è la massima apertura, la proposta che arriva dai responsabili del trasporto pubblico locale, e cioè quella di istituire un unico biglietto giornaliero con il quale utilizzare ascensore inclinato, Pullman GEAF e Bus Cotral. Esattamente come succede a Roma, solo che al posto dell'ascensore inclinato c'è la metro. Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, contattato dalla redazione di Teleuniverso, ha dichiarato che si tratta di una buona ipotesi sulla quale certamente lavorare. Bisognerà valutare la percorribilità effettiva delle spese e degli introiti che riguardano i servizi differenziati, ha aggiunto il sindaco, anche perché la mobilità sostenibile è sempre stata una priorità dell'amministrazione cittadina. Ottaviani infatti sottolinea che per la mobilità alternativa a Frosinone, dal suo insediamento sono stati investiti 200.000 euro per la manutenzione, tra cui anche i lavori per l'ascensore inclinato. Le parti in causa quindi sono tutte favorevoli all'idea del biglietto unico. Tocca vedersi quanto prima e dare concretezza a quella che al momento è un'ipotesi. Bella, ma un'ipotesi.